buonasera a tutti amici lorenzo sonico è stato a dir poco eroico ha battuto 6 4 6 7 7 6 team ma non è l'aver vinto è come lo ha fatto sonico ha giocato molto bene tutti e tre i set ha vinto il primo set giocando meglio di meglio di team un team che è partito come come il suo solito piuttosto lento poi team è cresciuto è riuscito a portare la partita al terzo vincendo un tie break nel quale sonico aveva recuperato due volte un mini break di svantaggio e poi team nel terzo set aveva preso un break di vantaggio e sembrava finita sonico non si è reso ha tenuto fra mille fatiche il servizio che ha costretto team ad andare a servire per il match e quando team è andato a servire per il match sonico ha fatto e uno dei tanti capolavori della sua partita ovvero ha breccato team come dire mettendolo in uno stato di non sicurezza team poi ha tenuto è vero il servizio abbastanza agevolmente il servizio del 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 sei pari poi siamo andati al tie break e il tie break è stata un'altra lena di emozioni incredibile sonico è andato avanti di prima di un break due volte avanti di un break due volte recuperato su cinque pari sonico fa il mini break cioè non di un break ovviamente di un mini break fa il mini break che porta che lo porta a 65 e servizio e poi tira la prima della vita che trova l'angolo e non permette a team di rispondere e quindi lorenzo sonico è nei quarti di finale del master mille romano veramente una prova commovente quella di sonico che non ha mai mollato neanche quando sembrava che la team avesse avesse preso in mano la partita e stasse stasse letteralmente dominando perché a un certo punto sonico era totalmente in balia del suo avversario nonostante questo sonico non ha mollato è riuscito ripeto a recuperare addirittura un break di un break di ritardo e niente da fare niente da dire veramente una prova eccezionale del ragazzo torinese che porta il tennis italiano nei quarti di finale di roma affronterà rubel un'altra partita complicatissima soprattutto un'altra partita dove lui ha giocato tre ore quasi tre ore un quarto oggi mentre rubel l'ha risolta in due set quindi la stanchezza potrebbe farsi sentire ma oggi godiamoci questa magnifica partita di sonico ripeto solo ha giocato benissimo dal primo all'ultimo 15 anche quando era sotto non ha mai mollato ha sempre cercato una soluzione per mettere in difficoltà team e insomma alla fine alla fine sonico ha trovato una delle vittorie più belle e credo anche più importanti della sua carriera aveva già fatto quarti in un mille nel 2019 a monte carlo questi sono molto molto più pesanti prima cosa perché sono a roma e poi perché l'avversario insomma battere team sulla terra nonostante che team sia il 70 per cento del team che era ma oggi ha giocato veramente bene anche ti ma soprattutto il secondo e il terzo set quindi io vi chiedo un like al video vi invito a mettere a iscrivervi al canale noi ci vediamo domattina con l'angolo dei pronostici perché nei quattro quarti di finale ci sarà anche un italiano buonanotte a tutti